Grazie Presidente, ringrazio il Presidente Baccelli e l'Assessore Frattoni, ci sembra un buon atto che sicuramente poi necessiterà un confronto in sede di stesura del regolamento d'attuazione. Tra l'altro cogliamo con soddisfazione il tentativo, parzialmente già riuscito perché questo testo assorbe il quanto previsto dalla Direttiva Europea del 2007, in particolare richiama l'importanza che la Direttiva Europea dà ai percorsi partecipativi. Infatti si cita nel contratto di fiume l'importanza dell'autorità di Baccino, le regioni e i comuni territorialmente interessati e le altre autorità competenti promuovono attraverso il massimo coinvolgimento degli stakeholder la sottoscrizione del contratto di fiume, che è un'azione che anche come Movimento 5 Stelle stiamo cercando di portare nei comuni dove abbiamo consiglieri o sindaci. Quindi cogliamo con positività questo atto, richiamando le linee guida ministeriali che cercano di interpretare poi e dare seguito alla Direttiva Europea del 2007 e un richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia Europea in merito alle acque superficiali, dove si richiama sull'importanza di questi corsi d'acqua, dove in questo termine ricadono anche le foci e i fiumi. E questo accoglimento in quest'atto della sentenza della Corte di Giustizia Europea dovrebbe interrogarci anche su che cosa poi dobbiamo fare in seguito a determinate infrastrutture, opere infrastrutturali previste. Per esempio mi viene in mente il porto di Carrara, che attualmente agendo sulla foce del Carione è incompatibile con i vari strumenti pianificatori della Regione, ma anche con la stessa sentenza della Corte di Giustizia Europea sulle acque superficiali, perché non possiamo modificare il corso dei fiumi né tantomeno la loro foce. Anzi, dirò di più, questo vale anche per Livorno e altre zone, ma a Carrara abbiamo la situazione, qua non è tanto localismo, ma quanto un ragionamento per priorità. Per priorità lì siamo in una situazione dove la foce del fiume è già stata modificata, con il piazzale Città di Massa c'è stata una modifica importante della foce del Carione e questo ha comportato un aggravio dei rischi di alluvioni di dissesto idrogeologico. Quindi, dato che quest'atto è fatto molto bene e l'indirizzo politico è condivisibile, voteremo a favore. Se il Presidente Giannarelli ci vuole illustrare anche la risoluzione collegata, così gli interventi che seguono fanno un intervento complessivo. Grazie. Sì, la nostra risoluzione è nata semplice, dove si chiede che nel sistema di allerta, di informazione, vengano coinvolti direttamente anche i cittadini con delle applicazioni che oggi si trovano facilmente, come gli sms telefonici, semplificando al massimo varie comunicazioni via chat, whatsapp, telegram, eccetera, eccetera. Quindi fare in modo che le varie comunicazioni di allerta vengano fatte anche direttamente ai cittadini.